peppino di la verità quando aurelio de laurentis ti ha chiamato tu non pensavi dover fare un film da attore no magari pensavi o una colonna sonora o magari a qualche biglietto per la partita no a un invito per la partita del napoli infatti il primo impatto è stato stai facendo che stai facendo di bello detto c'è una canzone no hai di questo ti volevo parlare e invece cominciato a parlare di cinema conno perché un'idea ma la canzone questo quando e quando arriva che sono praticamente la mia mia si può dire plagiato no però ti ha convinto insomma per carità scherzo voglio dire mi ha talmente mi ha fatto appassionare alla storia però mica fessa st'idea le carine insomma ti piace bene firma come che firma mi fai leggere no ma dai sotto tutti i fans giù che aspettano andiamo alla partita ci divertiamo dammi la mano è una stretta di mano chissà che succede non ho voluto né il copione né il contrario comunque a scatola chiusa e poi invece sono rimasto contento soddisfatto è una cosa che mi ha messo come dire un po in gioco come uno che c'ha un'esperienza in un altro settore perché non provare vediamo che succede e mi sono divertito ti sei divertito tu sei te stesso e poi anche questo questo boss di questo boss che a un certo punto ti vedo trasformate e quindi no no affascinante perché la cosa man mano questo boss poi piano piano si convince che peppino di capri e si comporta come peppino di capri col pubblico gli applausi gli autografi e io che lo guardo da lontano come peppino di capri ma che cosa da dove è uscito e quindi io devo fingere di cantare cioè non posso cantare bene nella parte che fa parte del copione devo cantare male per dar spazio al boss e quindi canta champagne mentre me ne scendo così quindi immaginiamo quanto sia divertente nella vita privata canto ancora cioè appunto perché poi volevo dirtelo dopo ma a questo punto anticipiamo l'argomento esce anche un disco di natale insomma un singolo tutto questo casino c'è stato il tempo di che fa andate via venite ragazzi arrivo subito no perché queste interviste lo diciamo si fanno tutti insieme e il pezzo è molto bello il pezzo è bellissimo no poi no per andare a prendere cd che lo vendono qui esatto signore del marocco credo che vedere così lo promozioniamo ma io ho letto canzone d'amore 3 euro è quello vero prendiamo quello non lo vende a 3 euro non lo prendiamo sarà fasul no non lo prende quindi c'è anche c'è anche un'iniziativa musicale quindi abbiamo trovato il tempo lo spazio per inserire allora scusami un attimo peppino perché loro sono i poliziotti francesco mandelli e paolo ruffini sono due poliziotti ma che poliziotti siete allora dillo tu paolo diciamo mi pare che tu possa spiegarlo meglio che poliziotti sia due poliziotti idioti e dementi siamo due poliziotti dementi abbiamo quindi fatto molto training per calarci nei panni dei poliziotti perché invece la parte demente è venuta così da se naturale naturale esatto e siamo due po come sceme più scemo insomma siamo alle prese con questo post della camorra e dobbiamo inevitabilmente cercare di risolvere questo caso attentoni ce la faremo oltretutto siamo grandi fan come nella vita di peppino di capri e quindi davvero quando c'è questo tipo di equivoco noi andiamo un po nel panico chi è più bravo dei due insomma tra i poliziotti io più bravo dei due io il più capace io il migliore come attore preso le goccine le goccine non prendere per calmarti nelle goccine si sa chiaramente ne ha bisogno più bravo sono io il anche più prestante fisicamente io ho fatto proprio delle scene d'azione so sparare con la pistola imparato proprio qua io ho fatto anche sto a non dire così avesse sparato addosso non saresti qua a raccontarlo una pallottola un bossolo di una del classico a salve dirlo che a salve ma mi arriva ma brucia non gli ho sparato escono i bossoli dal calaccio ma vedi anche questo esatto questo questo però devo dire anch'io tu hai questa tendenza a fargli del male no 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 è la tendenza a mettersi di fianco a me nel momento in ascoltami te sei manesco te sei manesco io non ti ho messo le mani addosso però io non ti ho messo le mani addosso sei cortesico chiedo scusa c'è molto affiatamento tra di me lo vedo sì però non mi toccare mi dà forse che mi dà fastidio quindi due polizioni se volete c'è anche un'ambulanza eventualmente no è stato è stato un piacere lavorare con paolo ruffini insomma ci siamo ritrovati dopo anni con grande felicità perché mi devi spingere stanno arrivando addosso mi sembra ecco allora cari amici che cos'è che c'hai in tasca adesso è natale vogliamoci vogliamoci bene no insomma due poliziotti ruffini e mandelli in questo film con ruffini che insomma diciamolo dai di fianco a me riesce un po' a far ridere un po' però un po' dopo due episodi di natale uno a miami e una new york per altri poi lui a napoli lui poi ha fatto anche altre ha fatto anche quando era colpi di fortuna un paio d'anni fa poi va bene non gli è andata bene film che diciamo a lui non ha portato così bene quindi per dare una mano anche a questo attore sventurato che francesco mandelli è stato richiamato e ho messo una buona parola col presidente dell'aurentis l'ha richiamato in extremis e quindi non devi sapere che voglio sapere tutto proietta cioè una malattia purtroppo questa serie di trope una patologia e va curata con delle pastigliette che se lui non prende regolarmente ogni 20 minuti purtroppo e si proietta la sua personalità versare sul film rimaniamo incavolare rimaniamo sul film sul film allora due poliziotti natale col boss al cinema 16 dicembre cinema era bellissima occasione per passare una bella serata un bel pomeriggio se volete con tutta la famiglia con le persone a cui volete bene con i vostri amici si ride tantissimo però rispetto a un film che magari una commedia uno dice carina questo è proprio un bel film c'è suspense c'è azione c'è divertimento c'è sentimento c'è soprattutto risate quindi non mancate dobbiamo andare che sono arrivati quei signori col camice bianco che poi lo devono portare per il trattamento non vi trattengo più arrivederci grazie buon natale auguri 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 buon natale arrivederci piano 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 piano